State ascoltando SBS Italian. Slow Italian. Fast learning. Medio Oriente si dimette il premier dell'autorità nazionale palestinese. Nato il Parlamento ungherese, approva l'ingresso della Svezia nel Patto Atlantico. Il primo ministro palestinese Mohamed Shtaieh ha rassegnato le dimissioni del suo governo al presidente Abu Mazen. L'autorità palestinese governa parti della Cisgiordania occupata. Il premier ha dichiarato di volersi dimettere a causa dell'escalation di violenza nel territorio e della guerra a Gaza. This decision comes based on the political, security and economic developments that are related to the offensive on our people in Gaza and the unprecedented escalation in the West Bank and Jerusalem and to what our people and Palestinian corps are facing as well as our political system that had been aggressively attacked in an unprecedented manner. L'annuncio arriva tra le pressioni degli Stati Uniti affinché l'autorità palestinese lavori a una struttura politica che possa governare uno Stato palestinese al termine della guerra. Israele ha affermato che non accetterà il governo dell'autorità palestinese su Gaza dopo la guerra. Il capo della Nato ha accolto con favore il voto del Parlamento ungherese che apre la strada all'adesione della Svezia all'alleanza. Il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg ha definito il voto come una giornata storica che completa il processo di cambiamento della politica di sicurezza della Svezia dopo 200 anni di neutralità. L'adesione della Svezia alla Nato è stata sostenuta da 188 deputati del Parlamento ungherese dopo le pressioni esercitate dagli alleati della Nato sul governo del primo ministro Viktor Orban. Si temeva che Orban, il più stretto alleato del presidente russo Vladimir Putin nel blocco, avrebbe impedito l'adesione della Svezia che ha chiesto di entrare insieme alla vicina Finlandia dopo l'invasione russa dell'Ucraina del 2022. Stoltenberg ha dichiarato che il voto dimostra che Putin non è riuscito a chiudere la porta della Nato, ma ha affermato che le truppe della Nato non saranno dispiegate in Ucraina. This is a war aggression by Russia against Ukraine and blatantly violating international law. According to international law, Ukraine of course has the right to self-defense and we have the right to support them in upholding that right and that's exactly what NATO allies are doing and will continue to do. Andy Murray ha lasciato intendere che questa stagione potrebbe essere l'ultima dopo aver conseguito la sua 500esima vittoria sulle superfici dure. Il britannico ha raggiunto questo traguardo con una vittoria sul canadese Denis Shapovalov nel primo turno del Dubai Tennis Championships di lunedì 26 febbraio. Il 36enne si è unito a Roger Federer, Novak Djokovic, Andre Agassi e Rafael Nadal nel gruppo degli unici giocatori a raggiungere le 500 vittorie su questa superficie nell'era professionistica. Murray ha dichiarato di essere orgoglioso di questa sua seconda vittoria stagionale dopo l'uscita al primo turno ai recenti Australian Open. 500 è un po' di match quindi sono molto orgoglioso di questo. Ovviamente la lista che hai dato non ci sono molti giocatori che hanno fatto questo. È un po' di 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 questo. Cliccate mi piace, condividete, commentate. Seguite SPS Italian su Facebook. Grazie a tutti.